Formazione per elevare il livello di professionalità anche in quello che è una semplice passione come la radio, quindi lo speaker radiofonico. Qui a Scuola Nuova ad Eboli sale il target e sale con Max Poli che questa mattina sta tenendo un seminario con i ragazzi. Innanzitutto buongiorno, un seminario per quanto riguarda il settore dello speakeraggio? Perché la formazione si fa in ogni ambito e la radio non è strana, la formazione vuol dire crescita, organizziamo questi workshop, seminari come li vogliamo chiamare perché serve come confronto a tutti noi, a chi già lavora in radio, a chi sogna di avvicinarsi a questa professione e per farlo in ogni ambito bisogna essere preparati, bisogna confrontarsi per capire di più e per arrivare magari preparati a quei pochi appuntamenti che dovessero, quelle poche occasioni che dovessero capitarci, quindi ti capita un provino, conosci un direttore, ti dà la possibilità di provare alla radio, è bene arrivare fortemente motivati certo ma preparati ad appuntamenti che sono i famosi treni che passano poche volte, è bene prenderli al volo è bene e assicurarsi anche il posto migliore se possibile, con la formazione questo è possibile ma come è possibile in ogni ambito in realtà, in tutte le aziende, le più grandi aziende che sono da Google, se citiamo i colossi dell'informatica a YouTube, i manager fanno formazione, la radio non è strana a questo tipo di cosa, anzi per fortuna si è aperta la mente un po' in questo senso, prima alla radio pensavamo tutti di essere nati imparati, come si dice dalle nostre pari, nati imparate, è scorretto dal punto di vista dell'italiano però rende l'idea, invece no, la radio ha bisogno di confronto e da qui c'è l'esigenza di fare incontri legati alla formazione come quello che abbiamo organizzato oggi qui ad Eboli. Sicuramente la radio è musica ma è anche linguaggio, quindi comunicare attraverso un microfono senza immagini. Max Poli sicuramente con la sua esperienza, volevo chiederti quanto è cambiato il mondo radiofonico? Beh è cambiato tanto, per fortuna però la radio non risente di tanti cambiamenti che appunto la tecnologia sta portando, no? Ora le distanze si sono azzerate con l'avvento dei social network, internet ha cambiato tutto il mondo della comunicazione, la radio è comunque stata sempre attenta ai cosiddetti nuovi media, tant'è che li usa adesso, li sfrutta come Facebook, come qualunque social, Instagram, li sfrutta e non ne dà solo appunto visibilità perché è vero che noi alla radio possiamo dire seguiteci su Facebook a questo indirezzo e quindi veicoliamo il pubblico che è già nostro verso i social ma è vero anche che facciamo il contrario, cioè noi prima, che ne so, andiamo sui social e diciamo tra poco saremo in onda, tra poco avremo questo ospite, seguiteci qua. Questa sarebbe la cosa più giusta da fare per esempio dal punto di vista della comunicazione e non portare sempre verso i social dalla radio, chi già è alla radio. Però riguardo la comunicazione dicevamo la domanda era questa, è cambiata tanto e la radio è sempre stata al passo con i tempi, anzi con l'avvento dei nuovi media molti ci davano per morti, davano la radio per morta, così non è, il mercato pubblicitario addirittura è salito negli ultimi anni, quindi malgrado la crisi, veniamo da una crisi che insomma ha colpito ogni settore, il mercato pubblicitario invece la radio sta salendo e non, anzi c'è stato uno studio di recente fatto da, eh sì, vedi, c'è stato uno studio di recente che ha stabilito addirittura che la pubblicità televisiva rende di più sia abbinata ad una campagna collegata alla radio, questo lo diciamo a chi guarda la tv, insomma è uno studio fatto fra l'altro non da radiofonici, è fatto da esperti di marketing che nulla avevano a che fare con la radio quindi questa è una cosa che ci rincuora tantissimo, la radio è un mezzo che funziona sempre, va tanto e lo dimostra anche il mercato pubblicitario. Insieme a Max Poli questa mattina un po' il Deus ex machina Alfonso Paoletta, lui di comunicazione se ne intende e chiunque avrebbe potuto immaginare un seminario per speaker radiofonico, ma sicuramente Alfonso Paoletta l'ha immaginato in un determinato modo e l'ha immaginato ad Eboli, perché? L'ho immaginato con Max, no vabbè con Max ci conosciamo da tanti anni e devo dire che è nata subito una grande amicizia e una stima professionale che va oltre, quindi in ogni occasione che c'è la radio c'è Max Poli con me Ecco, è vero, verissimo questa cosa. Eboli, Eboli perché vicino al mio paese campagna, Eboli siamo lì diamo l'opportunità anche ai ragazzi del posto di poter avere la possibilità di imparare a fare radio perché si impara anche a fare radio e quindi Max è in questo secondo me, è anche brutto dire il migliore però secondo me è veramente la persona giusta e oltre Art Roma, l'accademia dove Max è direttore quindi oltre al workshop che oggi fate qui, quindi che dura sei ore, c'è la possibilità di parlare con Max per fare qualcosa di grande, quindi anche l'iscrizione alla sua accademia che può avere, voglio dire, proprio un proseguio più importante, formativo per chi ama la radio, per chi ama non solo la radio ma per chi ama il doppiaggio per chi ama diventare un tecnico audio, quindi tante possibilità, noi siamo qua per raccontare questo e poi siamo qua per chiamare la radio, perché siamo, oltre a questo devo ringraziare anche Radio Punto Nuovo abbiamo anche Bruno Gaipa dall'altra parte, diciamo che ci siamo un po' tutti messi insieme per poter raccontare stamattina quello che è la radio. Max magari giusto, velocemente, poi chiudiamo perché dobbiamo rientrare in aula su Art Roma, è importante per me perché è un'occasione per tutti i ragazzi e almeno che dà qualche dritta, un sito, qualcosa per poter scriverti Sì, allora Art Roma sta per l'Accademia Radio Televisiva di Roma, è la prima accademia nata in Italia in ordine di tempo ed è una delle più importanti, non lo dico perché insomma ci lavoro ma è proprio riconosciuta così universalmente un po' da tutti gli addetti al settore, noi facciamo formazione radiofonica ma legata ad ogni ambito della comunicazione radiofonica, diceva Alfonso giustamente del fonico, il giornalista, il conduttore non esiste solo il conduttore radiofonico, speaker, ma esistono tante altre professionalità che danno effettivamente lavoro ai giovani, quindi però ripeto, lavoro per arrivare appunto al mondo del lavoro in qualunque contesto bisogna formarsi, prepararsi, noi formiamo i giovani che sognano di entrare nel mondo della comunicazione, se siete curiosi visitate il sito art-roma.it art-roma sta per Accademia Radio Televisiva di Roma, basta cercare anche sui social, su internet insomma ci trovate e lì vedete soprattutto cosa è importante, scoverete i feedback cioè appunto cosa ne pensano le persone che sono state da noi, sono le sentenze quelle sono le cose più importanti, come si va sui siti di viaggi, TripAdvisor e scopri come è stato un albergo, insomma quelle sono fondamentali per noi, andate a cercare vai a vedere le recensioni, andate a vedere cosa ne pensano gli altri, perché quello che dico io potrebbe sembrare scontato, cercate informazioni in rete su art-roma e vedrete insomma quello che facciamo riguardo la formazione radiofonica, quindi vi aspettiamo all'Accademia Radio Televisiva di Roma se volete approfondire il discorso radio. E' importante anche ascoltarlo dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. La professionalità conta ci ha tenuto legati al microfono per quanto tempo ha voluto lui. Ciao ragazzi. Qui al mio fianco il presidente di Scuola Nuova, Max Poli ci ha raccontato che a differenza di alcuni settori che hanno attraversato la crisi, quella radiofronica nel segmento pubblicitario invece ha registrato segnali positivi, quindi una possibilità lavorativa. Noi con grande onore e grande orgoglio ospitiamo questa Accademia per il conduttore di speaker radiofonico e stiamo lavorando con l'assessorato regionale, probabilmente avremo qui stamattina ospite l'assessore perché questa Accademia diventa un profilo professionale, diventa una qualifica professionale per dare la possibilità a tantissimi giovani di qualificarsi in ambito europeo perché queste qualifiche hanno valenze europee e di poter proporre il proprio lavoro, la propria professionalità a coloro che poi operano in questo settore. E questo è un primo passo dell'Accademia qui a Eboli, il secondo anno che la facciamo. Siamo molto contenti, ringraziamo il direttore artistico Alfonso Paolette con tutti i suoi collaboratori perché per noi è un momento importante di riflessione e per lanciare opportunità di lavoro ai giovani che oggi hanno tanta necessità. Max Poli diceva poco anzi, molto spesso in questo campo la gente immagina di nascere già, fra virgolette, imparati, invece anche in questo campo c'è bisogno di formazione. Noi abbiamo come missione questa della formazione professionale qualificata, riconosciuta e certificata in ambito nazionale e in ambito europeo e lavoriamo solo ed esclusivamente su queste attività. Questo è un momento propositivo, propedeutico per poi lanciare la qualifica professionale che, come dicevo prima, ripeto, può essere talmente interessante per tanti giovani perché fa combaciare il loro interesse, la loro passione, anche il loro momento di divertimento con l'acquisizione di un titolo professionale qualificante che permette loro di lavorare. Tra l'altro sta emergendo la voglia anche di ampliare questi corsi rispetto al seminario odierno che sarà di sei ore, di istituire corsi più lunghi. Corsi più lunghi che sono chiaramente previsti dalla qualifica. Noi in questo modo con Alfonso stiamo entrando nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'arte, della musica, del cinema, del teatro, quindi è un settore che Scuola Nuova sta percorrendo. Stiamo muovendo i primi passi e credo che per l'anno prossimo sarà uno degli obiettivi fondamentali e importanti della nostra attività scolastica. Ad Eboli Scuola Nuova approda l'Accademia Radiotelevisiva di Roma per un corso di formazione per quello che da passione può diventare un lavoro, la professione dello speaker, un partenariato importante. Questa mattina un seminario di sei ore con Max Poli ma che si prospetta che possa diventare già un corso di formazione in un settore che non conosce crisi, come ci ha detto poc'anzi Max Poli. Un'opportunità per i giovani. Un'opportunità per i giovani del nostro territorio, un'opportunità che fornisce una scuola di eccellenza nella provincia di Salerno, che è Scuola Nuova di Giuseppe Bisogno e con relatori di altissimo livello. Credo che poi la differenza quando si avvia un percorso di formazione e nella capacità di selezionare coloro che poi attivano la formazione e chi sono i veri insegnanti. Questi relatori fanno capire il livello alto di questo percorso formativo e che darà la possibilità a tanti di formarsi nel nostro territorio e poi di creare quegli spazi di un mondo che è quello della radio, che diventa sempre più affascinante e che non muore mai, nonostante tutte le nuove tecnologie e quello che forse legge anche più della televisione. C'è da dire una cosa, la formazione è anche come attrattore. Questa mattina fra i seminaristi, fra i corsisti ci sono persone che sono arrivate dalla Basilicata. Di questo ringrazio ancora una volta Peppe perché significa che dà la possibilità di rendere ebule al centro di questi percorsi formativi, di far conoscere la nostra bella città, di visitarla, soggiornare, magari portare anche un indotto economico che pur sembrando piccolo può sempre diventare più grande e gigantissi continuando su questa strada che vedo che ormai è stata intrapresa con risultati inimmaginabili.